che dicevi è lo stesso? Opinione da grafico vediamo che si basa molto sugli stessi elementi di un palco visto di profilo con lo stesso angolo tre piume sull'attività, sono accennate anche la zampa, il becco e l'occhio forato in negativo l'occhio forato in negativo che ora mettiamo a fuoco ok vediamo uno, due, 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 ok e tu sei l'autore di questo disegno? datato circa 1998 ti senti un po' depauperato del tuo ruolo di autore con questa cosa? a me basta che si ammetta che l'ispirazione è stata liberamente tratta da questo sarebbe sufficiente, poi non se la piglia nessuno dare credito ok ti ringrazio Peppe Lucido, grazie di tutto, buon lavoro a voi grazie